E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì ogni mattina appunto per andare a vedere insieme quelle che sono le news di mercato, quello che sta accadendo ai prezzi di Bitcoin, delle principali criptovalute, andremo a vedere un po' quello che è successo nella giornata di ieri, la notte, insomma un po' di tutto. Come sempre prima di partire il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace, qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento, me aiuta davvero davvero tanto col canale, se siete nuovi l'invito è quello di iscrivervi lo stesso col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. E date chiaramente un'occhiata anche ai link che trovate qui sotto in descrizione, Premixbit, insomma un po' di tutto, li tengo sempre aggiornati. Allora volevo partire il morning di questa mattina con il listing della giornata direi, non ce ne ho parlato tanto e volevo un attimino farvelo vedere anche io perché onde evitare di farsi prendere dalla FOMO, dalla follia, ok? Bisogna capire un attimino che cosa è questo Apecoin, poi magari ci farò un video, non lo so, fatemelo sapere in descrizione se vi piacerebbe, ma fondamentalmente è una coin di governance, è un token di governance e a recivente, quindi su retta Ethereum, che è stato airdroppato ai possessori dell'Ape, quindi del famoso NFT, insomma delle scimmie, ok? Cosa è successo? È stato listato su praticamente tutti gli exchange, io qua vi ho preso l'articolo di Binance perché è abbastanza riassuntivo, mi dà i punti focali da potervi mostrare, praticamente di cosa si tratta. Si tratta appunto di questo token di governance che andrà a regolare quello che è i voti, i diritti di voti da parte degli Apeholders, ok? Sui giochi, sugli eventi, sul merchandising, sui servizi, sui progetti appunto del progetto Ape, tutto il suo ecosistema. La sua cap quindi ha un billion di token, ok? Per questo bisogna stare molto attenti anche a questi dati qui, prima di capire se state comprando una cosa sovrapprezzata o meno e basta, cioè tendenzialmente non fa altro. Il token di governance è appunto stato lanciato da Yugalabs, anche se come viene specificato Yugalabs chiaramente non è, cioè lavora indipendentemente da Yugalabs appunto perché è una DAO, va comunque a sostenere un discorso di Apecoin DAO, però insomma è interessante il fenomeno secondo me che si è sviluppato dietro a questo, anche perché a livello di prezzo abbiamo visto delle folle, abbiamo visto, adesso non ho i grafici da trading view perché non hanno ancora caricato il ticker, però lo vedete bene da CoinMarketCap, cioè siamo stati a 20 dollari, poi ha dampato clamorosamente sui 6 dollari e 58 e adesso stanno in un reggiro recupero. Io vi esorto a vedere questo dato qui, ok? A prescindere dai più o meno, sono 3 miliardi e 3, quindi ho già sentito gente dire, ah ma questo è il nuovo Shiba, no signori non è il nuovo Shiba perché basta che prendete Shiba Inu e vedete che ha 12 miliardi di cap, che è già una follia a mio parere, ma non mi espongo, cioè per quello che effettivamente fa e serve, stessa cosa, forse è più utile quasi Shiba da un certo punto di vista, poi magari mi sbaglio e sicuramente sarà un valido progetto, ma in ogni caso, adesso non lo trovo neanche più, lo ritrovo da qui, vi invito insomma a capire che siamo già a 3 miliardi e 3, quindi vuol dire che non potete fare un per 47, se andate con la stessa cap di Shiba andate a fare un per 4, ok? Sicuramente non è la buttare via, ma insomma state attenti, ok? Quando toccate queste cose qua soprattutto in FOMO o comunque senza controllo, ok? Volevo anche farvi vedere questa promo qui perché Margex è uno degli exchange che avevo già parlato, me l'avete segnalato in realtà e allora ho detto vabbè ve la porto nel morning, praticamente dal 9 al 24 marzo, marzo sì, marzo, praticamente c'è questo bonus che se lo inserite nel vostro account MargexXOXO avete un 20% di bonus su un deposito di almeno 300 dollari ed è valido fino al 24 marzo, non è male perché appunto questo bonus poi lo potete utilizzare chiaramente per tradare e se tradate almeno 150.000 dollari in nuovi asset potete appunto ricevere un promo code di 150 dollari di airdrop di USDT sempre da tradare, ok? Interessante per questo motivo qua, chiaramente 150.000 dollari non sono tantissimi perché se utilizzate delle leve ovviamente il mio consiglio è sempre quello di non esagerare con le cose, però se utilizzate leve abbastanza anche elevate è chiaro che si arriva a semplice, chiaramente non lo consiglio fare una cosa del genere, però qui è spiegata molto bene, vi lascio in descrizione appunto, hanno anche l'app, infatti non è una nuova cosa, però appunto visto che me l'avete segnalato e ve l'avevo parlato ancora tanto tempo fa di Margex, vi lascio il link in descrizione. Ultima news è quella di GameStop perché GameStop ha fatto un Q4 in perdita e ora sembrerebbe intenzionata a lanciare un suo NFT marketplace, nella prossima, nel Q2 se non sbaglio, del 2022, sì esatto, nel Q2 del 2022, staremo a vedere perché anche loro sono un po' in difficoltà con il loro balance sheet, si parlava appunto qui di una perdita netta di 147 milioni di dollari che è l'83% peggiore rispetto all'anno prima e appunto chiaramente sono situazioni dove si tendono anche molto spesso a spostarsi in maniera rapida su ciò che effettivamente ha maggiore gancio tra in questa fase. Per quanto riguarda appunto invece i gainers delle 24 ore, troviamo Apecoin, di cui abbiamo parlato questa mattina, Mina che fa un più 27, Pancake che fa un più 14, anche qua tutto il discorso di integrazione con Binance ha dato un po' di linfa vita da Pancake, Ave un più 11 con il V3, Kusama un più 6 e 43, Waves un più 6, Avalanche un più 5, Helium un più 5, insomma abbiamo avuto anche dei buoni gainers tra i losers, non troviamo niente di particolare se non Silo ma con settimana positiva, Anchor che chiaramente ha dato indietro dei pump anche forse un po' troppo esagerati, un 2.7, Torchene un meno 5 ma ripeto più 52 settimanale, c'è poco da dire, Loopring un meno 4, Sigetro un meno 4, insomma poi abbiamo Phantom, ma comunque sia non abbiamo particolari losers. Quello che è accaduto appunto nella notte è stata una chiusura abbastanza tranquilla, siamo andati però in realtà in un drop alle ore 1, lo vedete bene qui, con dei volumi un po' più elevati rispetto ai precedenti e poi siamo andati anche a recuperarlo nella notte, ci siamo riportati sui 48 in range, ok, su questa zona qua, una zona di attenzione, ci avviciniamo verso il weekend e quindi sarà importante anche vedere un po' il movimento e pesarlo anche, il movimento, per quello che sarà effettivamente il volume a sostegno dello stesso, ok, perché mi raccomando non fatevi prendere dal FOMO, dal FAD nel weekend perché sono delle situazioni che possono sicuramente tornare utili ed ha molto senso tenere tracce, analizzare il tutto, però chiaramente se non avete supporto molto spesso vediamo le move del weekend essere annullate sia in positivo che in negativo, ok, già l'apertura del lunedì, però appunto rimaniamo a osservare, abbiamo recuperato anche sull'orario la 12 e la 26, quindi comunque sia un leggero recupero, insomma questa è la situazione abbastanza stazionaria sulla Dominance, di cui parlavamo anche ieri con la live da Mauro Caimi sul cartello, appunto è un po' la mia guida in questa fase, vedete come comunque si mantiene forte, sempre sul ridosso da 200 che è una calamita praticamente per la Dominance e finché non si stacco fino a che non la perde, ok, rimaniamo abbastanza flat, ok, dove il play migliore rimane Bitcoin sul play, ok, poi è chiaro che, lo ripeto sempre, ci sono gli espluali, le cose un po' così rischiose come le ape, oggi vi lanciano, vi fanno dei numeri, ma non li prendete a certi prezzi, questo è il mio consiglio, perché poi se vi rimane in mano una cosa del genere che dampa alla grande, poi dopo è difficile, è difficile gestirlo, ok, Dominance, scusatemi, Total invece che rimane agli 1.78 Trilions, quindi anche lei abbastanza stazionaria nella parte alta comunque di questo range, che va dai 1.65 appunto a questa zona qui, ripeto, sempre da 200, ok, da tenere in osservazione, quella va superata. Detto questo ragazzi, io mi fermo, spero davvero di aver detto un po' tutto, fatemi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere anche se vi interesserebbe dei video a riguardo, in modo tale che possa regolarmi. Detto questo ragazzi, vi invito, come sempre, a lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, con clic sulla campanellina, per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!